Siete stoppando? Si dice ramazzando! Quando hai detto scusami? Allora, quanti soldi io ti faccio al mese? Cinque! E cosa devi fare con questi cinque euro? L'ho preso i prodotti per la mamma casa! Appunto, e allora devi pulire perché qua deve essere tutto, pulito, 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 hai capito? Devi lavare tutto, tutto quanto devi pulire, hai capito? E questo è schifo! Insomma, e questo che cos'è? Che cos'è questo? E' pulito! E' pulito! No, è una micropartizia di polvere, di polvere! Niente di meno! Niente di meno! Allora, e allora devi pulire tutto, hai capito? Tutto questo coso! Allora devi pulire la cucina e va schifo, deve essere pulita, 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 il bagno soprattutto, che è polvo, tempra, per colpa tua, insomma! E deve essere pulito, pulito, pulito! E soprattutto, la camera da letto, deve essere pulita, pulita, pulita! Ma sono qua, sono qua! Sono qua, sono qua! E se basta! Bene, adesso io me ne devo andare! Dove vai? Vado a fare di bella! E dove vai? All'ulto! Mi fate il testo, mi fate il testo, non mi fate il bambino, stai? Mi fate il testo, non mi fate il testo, non mi fate il testo, non mi fate il testo! Guardi, quando sono andata per tutto, pulito, pulito, pulito! Ok! E che stai facendo? Sono delle mica portose, tutti erano le cose! Per pulito, portose! E quando sono andata, dove deve essere pulito, pulito, pulito! Grazie. Ah! Ah! Oh! Eccolo qua, hai che... Sai chi sono io? Guadaglio! Guardami bene. Attento, preparci. Io... Denti forte, sei uno forte... A te... Dove va? Ma non va? io sono l'amante di tua moglie io sono l'amante di tua moglie ma tu sei facendo un lusso tu sei ma tu sei l'amante di tua moglie io sono l'amante di tua moglie ma non fa l'amante, ma scusa ma l'amante non è possibile che tu non parlarti comunque non parlarti, non parlarti, non parlarti, vi devo dire una cosa, attenzione, sei pronto? oi, e che cosa? sappi che tua moglie ha un'amante? e come l'hai detto, sei tu? ma credito, lo so che sono io, ma c'è da un altro, oltre me ha un'altra amante ma come tu non lo sai, io non ci so, capito? perché io fornuto di un fornuto non ci posso andare eeeh, la cosa non mi chiamata la stessa, comunque non è, vai da proprio io, dimmi chi è il comandante tu non ti ferisci, te la vuoi fare, vieni, torno, ah, vai, vai e fa Paolo, tu ti fai? che ti fai Paolo, oi, perché ce lo faccio? ma che quella la passa? ma come la passa? eeeh, io non lo so fare, anche te le fa ma scusami, ma in casa tua chi è che porti i maschi a tutti? sei un caso disperato, ma che fai con quella stessa, ma che fai con quella stessa, ma che cos'hai? ma che cos'hai? ma tu devi dimostrare che hai i pantaloni, in casa tua i pantaloni li porti tu, quindi adesso quando vedi tu i pantaloni, i pantaloni, i pantaloni, ma non lo posso fare, ma perché no? ma ci vammazzano, non vedi qua, ma c'è la donna, c'è la donna, c'è la donna, c'è la donna, c'è di giù ma che è di giù, lascia stare, comunque, ascoltami bene, adesso noi dobbiamo sapere chi è la donna, eh no, perché io sono un giuro, guardami, 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 attenzione, cosa vedete i miei occhi? uno del volore lo so ti preg STEFANO ma in지만 perchè an'ecchia d'un nato? ma che c'è dza? nel mio occhio c'è un animale che lo svegliete neri, che animale è? L'ANEMANA! no, ti dice un'animale c'è dava? ma no, ci dobbiamoège c'è!! e tu perchè sono downed? in between! perché io la professi vedo! perché io sono una advv e tu che animale sei? te e ad esempio l'animale, guarda te! che animale hai dentro di te? guarda! specialino! non è andato l'animale! l'animale è in tempo di te! chi non siete? sei con seduto! che sei? non è a chi! sei tu l'animale! no! no! non è andato! perché non è andato! se non è andato che corre nella savana con la criniera! di animale è? corre nella savana con la criniera! di animale è? no! il leclerc! il leclerc! il leclerc! il leclerc! il leclerc! vai! il leone! attenzione! vai! 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 miau! ma tu sei miau! ma tu sei miau! vieni qua! tu devi partire come ci sei davanti! e allora! cammina! ti muovi! ti muovi! ma tu muovi male! ma tu muovi male! devi camminare come camminava John Wayne! John Wayne! John Wayne! che c'è? John Wayne! ma quale figurine! ecco quando ti do voglia ne vai ad incontro con la famosa camminata di John Wayne che è la camminata punto e virgola! e ecco si! punto! punto! look! vai! chiedere la mano! diventa! diventa! dai! punto del pito! punto del pito! punto del pito! punto del pito! chiedere la mano! vieni qua! che face! dite! dite! non mi chiede avanti, non mi chiede. Ah! Casi estremi, estremi viventi! Che cos'è questo, che cos'è? AAAH! Cos'è questo? Che senso? Questo qua è il trespolo del potere! Ah! C'è il trespolo del potere! Che spesi? Che trespolo, trespolo? sali non crescono la dominazione per l'uomo sulla donna sali sali con la cammina del gioco e i pantaloni e i pantaloni i pantaloni i pantaloni i pantaloni sali che fai sali ma come sali ma mi troppo a un'altra ma spegna sali 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 domina la donna in questo momento non riesco a dominare anche me stesso ma adesso tu dovrai dominare la tua donna e la farai leggere in ginocchio in ginocchio perché lei si deve dire chi è il suo amante quindi ci vuole una frase importante ah si 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 tu adesso la guardia dove hai fatto i pantaloni pantaloni e la pantaloni e la pantaloni e la pantaloni in ginocchio in ginocchio bravo tu la guardia dici ah tu donna pedigra per concubine l'ho conosciuto con lei che amare di grattu e mi chiede domanda che si vuole la voce e la strozza di Michele comanda e te lo dici e tu quando ti ferisci hai capito? ma saluto del problema non ti ferisci 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 guarda guarda tu donna pedigra per concubine se non sono colpe ma non c'è il raggio che mi trovo la professione ti ferisci ti ferisci ti ferisci ho fatto la vita ti ferisci ho fatto la vita 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 poi in camera di canale il suo muci sicuramente adesso che mi raccontino qua ti chiedo di tisano e ti suggerisco ma tu mi raccomando ce la puoi fare? i pantaloni ricordo i pantaloni il leone John Wayne il potere e ma la cosa sta ti torna No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! ahahah dopo aver visto prima che stavo volendo qua questa è la donna delle polizie capisci? perché andiamo a prendere la mutata questa è tua moglie tocca un palazzo, si impianta un palazzo ma scusate ma voi non siete i russi del secondo piano? no, siamo i bianchi del primo piano no, siamo i bianchi del primo piano